Ciao Paolo, mi hai cercato? Sì Adele, ti ho cercato perché volevo chiederti se eri disponibile a fare da personal trainer a mia figlia Silvia nei suoi primi allenamenti. Sai come di solito i figli non sono molto propensi a ascoltare i genitori, per cui anziché seguirla io avrei piacere che la seguissi tu che sei un'ottima insegnante. Sei disponibile? Ok Paolo, non preoccuparti, ci penso io! Ok, però siccome è ancora giovane, comprensione, tatto e delicatezza, mi raccomando. Ok Paolo, comprensione, tatto, delicatezza prima di tutto. Forza a lavorare! Cosa ti chiedi di essere al parco giochi? Avanti con penetrazioni! E tutto quello che sai fare, mia nonna farebbe molto meglio! Forza, su, avanti! Questi giovani non si impegnano proprio, manco avessi a che fare con un neonato! E tutto!